Han, le ore contate, il balordo o i balordi che hanno compiuto un gesto scellerato nei pressi dell'ufficio postale di Pagani. Sembra infatti che le telecamere presenti sul luogo abbiano funzionato e che quanto prima i balordi di cui abbiamo detto forse saranno denunciati e fermati dall'arma. Un gesto spreggevole stigmatizzato da tutta la città di Pagani. La scritta apparsa sulla parete dell'ufficio postale, vista bene, ha scosso finalmente gli animi dei paganesi che non hanno accettato che nottetempo qualche stupido abbia imbrattato la parete sulla quale è posizionata la lapide in onore dell'eroe 33enne Marco Pittone. I cittadini paganesi si augurano solamente, e ne sono certi, che i carabinieri abbiano individuato colui o coloro che hanno infangato la memoria del telente dell'arma e le immagini di un'intera comunità. Molti sono coloro che hanno chiamato la nostra emittente per esprimere il disappunto di tante persone che rispettano le leggi e danno merito a uomini della benemerita e delle forze di polizia che continuamente tutelano il territorio e i cittadini. La scritta comparsa sulla parete dell'ufficio postale di Pagani sotto la lapide del telente Pittoni ucciso mentre tentava di sventare una rapina il 6 giugno del 2008 è un gesto ignobile e vergognoso. Mi auguro che si individuino tempestivamente i responsabili un atto spreggevole e bile che offende la memoria dell'ufficiale morto a soli 33 anni e che offende l'arma dei carabinieri e una comunità intera. Questo è quanto ha scritto su Facebook l'onorevole Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale.